Musica Domani a Fossombrone l'ultimo saluto a Marina Luzzi Uccisa dal fratello del compagno nella sua abitazione Partita una raccolta fondi per aiutare la famiglia della giovane mamma Raduno di giovani per filmare manovre spericolate di minorenni e neopatentati con auto e moto Elevate diverse multe a Lucrezia di Cartoceno Mobilità sostenibile Fano ottiene la bandiera gialla per il sesto anno consecutivo Domani la cerimonia di consegna all'ex chiesa di San Francesco Lotta e prevenzione contro il tumore al seno inaugurata a San Sonia di Fano La panchina dedicata ad Alida Battistelli, presidente dell'associazione Fior di Loco Celebrazioni in o gastronomia e spettacolare esibizione pirotecnica Dal 4 al 6 agosto torna a Fano la 64esima festa del mare Con un programma ricco di eventi che rendono omaggio alla tradizione marinara della città Il territorio come palcoscenico diffuso 20 concerti in 19 comuni della provincia di Pesero Urbino Al Via Terre Sonore, il festival itinerante ideato da Fano Jazz Network Buonasera, si svolgeranno domani alle ore 16 Nella chiesa di Santa Maria, ausiliatrice di Fossombrone Ai funerali di Marina Luzzi La giovane mamma di 40 anni, uccisa con un colpo di pistola a martedì mattina Nella sua casa a Piancerreto, nel comune di Fossombrone In segno di rispetto, la Proloquo Forum Semproni Ha fatto sapere che tutti gli eventi in programma per questa sera sono stati annullati Mentre i negozi rimarranno regolarmente aperti Per le 21.30 è previsto un momento di raccoglimento da parte di tutti i commercianti Per ricordare Marina Intanto è stato aperto un IBAN insieme alla parrocchia Per aiutare la famiglia della donna Invece l'iniziativa della Lega programmata da oltre un mese per questa sera Nella collina delle Fati a Fossombrone Non sarà più una festa, come ha spiegato il segretario regionale Giorgia Latini Ma un momento di ritrovo e di confronto sull'attualità E sui temi del femminicidio e della violenza sulle donne Per i quali, proprio ieri, si è costituita in Parlamento Una commissione bicamerale di inchiesta Domani inoltre davanti al GIP del Tribunale di Urbino Si svolgerà l'interrogatorio di convalida dell'arresto di Andrea Marchionni Fratello del compagno, accusato del reato di omicidio volontario I carabinieri della stazione di Colli a Metauro Insieme al personale della polizia locale di Cartoceto Hanno organizzato un servizio di osservazione a distanza Nella zona industriale Borgognina Dopo le segnalazioni di assembramenti ripetuti Di giovanissimi, in gran parte minorenni e neopatentati Che si radunavano con auto e moto Per eseguire manovre spericolate Mentre il resto dei presenti effettuava video con i telefonini I militari hanno anche accertato L'esistenza di un profilo Instagram Sul quale venivano postate foto e video Delle pericolose gesta e pubblicizzati eventi clandestini Il servizio di militari ha dato esito positivo In poco tempo si sono radunati circa un centinaio di giovani Ma lo spettacolo è stato interrotto Dall'intervento congiunto di militari e agenti municipali Che hanno identificato gran parte dei presenti Ed elevato a loro carico contravvenzioni per circa 1000 euro Per la mancanza di dispositivi in dotazione ai mezzi Per l'alta velocità E i rumori causati dagli pneumatici A seguito di forti frenate Accelerazioni e testa coda Gli spettatori sono stati invece diffidati Dal reiterare simili assembramenti Anche in considerazione della pericolosità Di tali condotte Per la propria incolumità Domani pomeriggio all'ex chiesa di San Francesco Si svolgerà la cerimonia di consegna della bandiera gialla FIAB ai comuni della regione Che si sono distinti per la mobilità sostenibile Tra questi c'è anche il comune di Fano Che riceve il vestillo per il sesto anno consecutivo C'è anche Fano tra i 16 comuni marchigiani Che domani, venerdì 28 luglio Riceveranno la bandiera gialla Si tratta del riconoscimento che la FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Ogni anno assegna alle amministrazioni Che decidono di far verificare Il proprio livello di vivibilità urbana Ottenuta grazie a piste ciclabili Arei verdi, moderazione del traffico e cicloturismo In tutta Italia i comuni ciclabili 2023 Sono 179 Tra cui 9 capoluoghi di regione e 26 di provincia Fano che ha aderito sin dalla prima edizione nel 2017 Ottenendo sempre il vestillo Quest'anno ha ricevuto 4 bike smile su 5 Paola, in base a quali criteri viene attribuita la bandiera? Criteri fissati dalla FIAB Tra l'altro con l'avallo dell'Università della Sapienza di Roma Dell'Anci, eccetera Sono relativi a 4 aree Una è la mobilità sostenibile Quindi le infrastrutture, le ciclabili Ma anche le zone 30, le aree a 30 km orari Quindi la diminuzione della velocità in città L'altro è la governance E sono tutti quei servizi che il Comune mette a disposizione Dei cittadini per scegliere forme di mobilità alternative All'auto privata Poi c'è la comunicazione e promozione Che non è una cosa banale E coinvolgere continuamente durante l'anno E noi lo facciamo anche con le scuole, con i bambini In questo tipo di sensibilità rispetto alle scelte di mobilità Tra l'altro la tendenza europea è questa Di non fare più piste ciclabili Ma rendere tutta la città a 30 km all'ora Per renderla percorribile e sicura per tutti gli utenti L'ultima e non ultima è il cicloturismo E su questo noi ci stiamo muovendo con la ciclovia adriatica Purtroppo con un po' di fatica Perché sono interventi molto sostanziosi e grossi Quindi i finanziamenti sono enormi Ma stiamo procedendo e la realizzeremo per tratti Oltre a questa sono diverse le piste ciclabili Realizzate dal Comune dal 2016 ad oggi Quella che collega la trave a Fenile Le ciclabili di via Roma, via Soncino, via Negusanti Via 4 Novembre, via della Giustizia e via della Fornace Sono seguiti gli interventi in via Trave Con la zona 30 il primo tratto di ciclabile in via Dante Lighieri E il percorso inaugurato di recente all'Arzilla Inoltre a breve verranno realizzate sia la ciclabile di via Le Kennedy Che andrà in appalto il prossimo mese Sia quella che collegherà la zona dell'aeroporto Alla rotatoria situata all'uscita della superstrada Che andrà a congiungersi con la ciclovia del Metauro Sarà lunga complessivamente un chilometro e 800 metri Tutti questi percorsi un domani faranno parte di una grande rete Diventando dei veri e propri itinerari ciclabili Assessore che cosa rappresenta per voi questo riconoscimento? È un riconoscimento molto importante Che lo viviamo veramente con grande grinta Perché veramente anche questo ci fa da stimolo Ogni anno a fare meglio e a raggiungere un traguardo Che misura la qualità della mobilità E quindi anche la qualità della vita delle persone All'interno della nostra città In effetti, come dire, ottenere la bandiera gialla Oggi non è indice solo Cioè non rappresenta solo di quante ciclabili abbiamo All'interno della nostra città Ma è molto di più Cioè va a valorizzare quelli che sono percorsi di casa-scuola Scuola-lavoro Tutte quelle attività e tutte quelle, diciamo, dinamiche Che noi poi mettiamo a disposizione Per far sì che ci sia un raggiungimento In sicurezza e con più facilità È per quello che vuole promuovere Tutta la bike friendly Perché, come dire alle persone Utilizzate sempre più una mobilità leggera Quindi favorite di muovervi con biciclette a piedi Perché innanzitutto fa bene alla salute Ma fa bene anche al luogo in cui viviamo Alla cerimonia di domani Che avrà inizio alle 17.30 All'ex chiesa di San Francesco Sarà presente il presidente nazionale della FIAB Alessandro Tursi E i rappresentanti dell'associazione di categoria del nostro territorio Enrico, qual è l'obiettivo dell'iniziativa? Serve per misurare la febbre La febbre delle città e quindi anche di Fano Cosa è la febbre? Soprattutto febbre da traffico eccessivo Infatti uno dei parametri che vengono misurati con questa iniziativa È il numero dei mezzi a motore che utilizzano la città Quindi uno degli obiettivi è rendere più scorrevole il traffico Consigliando, suggerendo di usare mezzi alternativi Per noi qui a Fano è normale pensare alla bicicletta E attenzione Fra poco avremo Non dico l'esplosione Ma una più larga diffusione delle biciclette cargo Quelle che consentono alle persone di trasportare in sicurezza E dico anche in allegria I bambini per andare a scuola E anche per fare la spesa Quindi senza i problemi di parcheggio Di intasamento Di pericolo Che sono prodotti da un traffico eccessivo Perché ricordiamo che le nostre bellissime città In particolare i centri storici Da una sessantina d'anni Sono diventate altro Devono ritornare ad essere quelle che erano un tempo Cioè il luogo dell'incontro Del commercio Della cultura Cosa che purtroppo non è da molto tempo A San Costanzo Ieri sera Diverse famiglie sono state evacuate Da una palazzina di strada Solfanuccio A causa di un incendio Che si è sviluppato dopo la mezzanotte Nella cucina di un appartamento Situato al primo piano Sul posto Oltre ai vigili del fuoco E ai carbinieri È intervenuto il 118 Che ha trasportato in ospedale Alcuni residenti Per accertamenti Il fumo Ha coinvolto anche il secondo piano Dell'immobile Che è stato dichiarato Inagibile Un branco di lupi La notte scorsa Ha sbernato un capriolo A circa 200 metri Dal centro abitato di Fenile La segnalazione Ci è arrivata Da un nostro telespettatore Che si è trovato davanti Questa scena Ovvero la carcassa Dell'animale ucciso Che abbiamo oscurato parzialmente La foto che invece ritrae Un capriolo vivo Come ci ha precisato È del 21 giugno Ed è stata scattata Da una delle fototrappole Che per mie esigenze Ha aggiunto Ho spostato Una settimana fa Altrimenti avrei ripreso il fatto Le persone E soprattutto i giovanissimi Che girano A piedi di notte Nelle vie anche periferiche Chiede reporter Saranno al sicuro? Io sono molto preoccupato Ci spostiamo In zona Sassonia Di fronte Alla capitaneria di Porto Dove ieri è stata inaugurata Una panchina Dedicata Ad Alida Battistelli Presidente Dell'associazione Fior di Lotto Un messaggio A favore della lotta E della prevenzione Contro il tumore al seno Stefania Schiaroli Oggi vi mostriamo Questa splendida panchina Dipinta da due studentesse Dell'Istituto di istruzione superiore Polo 3 Con indirizzo grafica E comunicazione Un gesto di sensibilizzazione Dedicato all'associazione Fiore di Lotto Che si occupa Della lotta Contro i tumori al seno Come è nato Questo progetto? È un progetto Che abbiamo accolto Favorevolmente Proprio perché Nasce per promuovere Un tema importantissimo E molto caro Molto caro a noi donne Ma molto caro a tutta la città È il tema Della sensibilizzazione Per la lotta Contro il tumore al seno Un tema che Mette in evidenza La gran forza Delle donne Donne che ogni giorno Fanno la loro battaglia Ma donne anche Che la battaglia L'hanno persa E le vogliamo commemorare Abbiamo qui L'ideatore del progetto Raccontaci Praticamente Ho fatto questa panchina In memoria per la Lida Perché era Una grandissima signora Che mi voleva Un mondo di bene E soprattutto È dedicato anche Alle donne Tumore al seno Per ricordare Che il tumore Non è una cosa banale Professore L'importanza Di questi gesti Di sensibilizzazione Soprattutto quando Vengono dai giovani Beh questa è una cosa Molto bella Prima di tutto Per noi Che ci occupiamo Di questa patologia E cerchiamo di Appunto Affrontare questo problema Sanitario E ci sentiamo Per una volta tanto Non soli E vediamo Il paziente Non solo come paziente Ma come Nostra vicina È un aiuto Continuo E la disponibilità Di queste persone Che noi cerchiamo Comunque di Risolvere E questa associazione Fior di Lotto È voluta Da Lida Battistelli Che come vedete C'è la targa Poi che ricorda La signora Un'altra signora Che è stata Sottoposta A intervento Per tumore Alla mammella Tutto questo insieme Ci fa capire Pensare Tante cose La prevenzione È fondamentale Cerchiamo di stare uniti Aiutarci E probabilmente Questo problema Riusciremo Ad affrontarlo meglio Se stiamo Tutti insieme Che tecnica Avete utilizzato Per dipingere Le panchine Abbiamo ripreso Il disegno originale E l'abbiamo Semplificato Utilizzando così Meno colori E non riportando Tutte le sfumature Ma solo alcune Quelle più importanti Con dei colori Piacesi Più adatti Ad una panchina È molto importante Che voi giovani Siate sensibili A questi temi Le emozioni Nel realizzare Questo progetto Comunque Siamo sentiti Sentite molto utili Per la società Per dipingere Questa panchina Perché se no Sarebbe stata Abbastanza triste E state emozioni Direi positive Ecco Comunque Anche essendo Due ragazze E trattare Un tema Così importante Per la prevenzione Del tumore al seno Mandiamo un messaggio Sull'importanza Della prevenzione La prevenzione Salva la vita Ci tengo particolarmente A ricordare Che l'iniziativa Di oggi È un'iniziativa Che nel decimo anno Della fondazione Dell'associazione Fiordiloto Vuole ricordare Alida Battistelli E io ho l'onore Di aver avuto con noi Insomma Suo figlio Perché Alida È la fondatrice Di questo importante Percorso E dell'importante Operato Che sta portando avanti L'associazione Per cui Non dimenticheremo Mai quello Che ha fatto E sono certa Che tutte le donne Che fanno parte Dell'associazione Fiordiloto Hanno in mente Quali siano Gli obiettivi Quotidiani Della prevenzione Dell'attività Da portare avanti Per se stesse E per le altre donne Proprio come ha fatto lei Ancora cronaca Due incidenti Si sono verificati Nelle ultime 24 ore A Fanno Nel primo Accaduto ieri sera Alle 21.45 Sono rimasti coinvolti Un'auto E uno scooter Una fanese di 57 anni Era a bordo Di una Opel E stava percorrendo Via Tolmino In direzione Pesaro Quando giunta All'intersezione Con via Località Centinarola Ha svoltato a sinistra Nel frangente Però ha intersecato La marcia Con un chimico Condotto da un 51enne Fanese Che a causa Dell'urto È caduto a terra L'uomo È stato trasportato Dal 118 Al pronto soccorso Del Santa Croce Questa mattina Invece Poco dopo Poco prima Di mezzogiorno Si è verificato Un tamponamento Tra tre auto In via Primo Maggio All'altezza Dell'intersezione Con Viale Carducci Una 31enne Di Urbino E una 20enne Di Petriano Che viaggiava con lui Sono finiti all'ospedale In codice verde Gli altri conducenti Invece Ne sono usciti Illesi Sul posto In entrambi i sinistri È intervenuta La polizia Locale di Fanno Per i rilievi di legge Cambiamo argomento Il consigliere comunale Della Lega Fanno Luigi Scopellitti Ha raccolto Le lamentele Dei residenti Del quartiere Poderino Che da anni Denunciano Una situazione Insostenibile Dovuta Alla presenza Di gruppi Di giovani Che approfittano Dell'oscurità E della copertura Di vegetazione Per organizzare Feste e scoribande L'ultima è stata Sabato scorso Si legge in una nota Quando un gruppo Di minorenni Ha violato la sede Dell'associazione Vivere Poderino Con il furto Di bevande Poi utilizzate Nella festa Organizzata in piazza Unità d'Italia Fino alle 4 del mattino Abbandonando sporcizia E rifiuti Bisogna parlare Non solo di disagio Giovanile Ha detto Scopellitti Ma anche di disagio Dei cittadini I consiglieri Della Lega Presenteranno Un'interrogazione Al sindaco E alla giunta Per conoscere Le azioni intraprese Per affrontare L'emergenza sicurezza E riportare serenità Nei quartieri Chiedendo anche Il coinvolgimento Dei cittadini Convocando Assemblee pubbliche Ora apriamo La pagina Degli eventi Con la tradizionale Festa del mare Che torna a Fano Dal 4 al 6 agosto Tanti gli appuntamenti In programma Che culmineranno La domenica Con lo spettacolo Pirotecnico Il servizio è stato curato Da Filippo Pucci Nei caratteristici quadri Del molo di Ponente A Fano Oggi si presenta La festa del mare Festa del mare Che arriva alla sua 64esima edizione E in programma Il 6 di agosto Come sempre Si inizierà dal mattino Con la celebrazione Eucaristica Quest'anno Ufficiata Dal nuovo vescovo Andrea Andreozzi Poi la deposizione Di corone Dall'oro Nel tardo pomeriggio Eventi sportivi Concerti E stand gastronomici Alla sera La grande conclusione Con lo spettacolo Pirotecnico Lungo la costa L'evento organizzato Dall'ufficio turismo Del comune di Fano Ha l'obiettivo Di rendere omaggio Al mare Ma allo stesso tempo Ricordare chi Lavorando appunto In mare Non ce l'ha fatta E ha perso La propria vita Gli appuntamenti Legati a questa festa Partiranno da Martedì 2 agosto Per poi proseguire Il 4 e 5 agosto Con letture Ricordi Buon cibo E buona musica E visite guidate Gli appuntamenti Completi Sono visibili Sia sul sito Occhioallanotizia.it E sulle pagine Ufficiali Di Visit Fano La manifestazione Prosegue Il 6 di agosto Con il concerto All'Alba All'Arzilla Per poi passare Ai tradizionali Appuntamenti Legati alla festa Del mare Tradizione Radici Identità Sono questi Gli ingredienti Di quella che è La 64esima edizione Della festa del mare Quest'anno anche In veste Rinnovata Con tante attività Culturali e gogliardiche Nella zona del porto Ma con il momento Centrale Ovviamente Che è quello Delle celebrazioni Della domenica mattina Celebrazioni Che inizieranno Alle 9.30 Con la cerimonia Di alza bandiera Che avverrà proprio In zona porto Davanti al monumento I caduti Alle ore 10 Ci sarà La Santa Messa Ufficiata Da sua eccellenza Monsignor Andrea Andreozzi E da seguire Appunto L'uscita in mare Che abbiamo sempre Conosciuto Con le imbarcazioni Da di porto Ci sarà la possibilità Per tutti Di uscire Con la motonave Queen Elizabeth E andremo Appunto A deporre La corona in mare In ricordo Di tutte le persone Che sono cadute Nelle attività marinaresche Nel lavoro E nelle varie attività Della città di Fano Quest'anno Appunto Oltre alle tante Attività culturali Tutta la Darsena Giurgini In zona porto Vedrà la presenza Di stand gastronomici Dove appunto Mangiare il pesce Dell'Adriatico Per tutte e tre le sere Quindi venerdì Sabato e domenica Per chi vuole Si potrà cenare Con buona musica A fianco della Darsena Giurgini Ovviamente Il momento finale Dalla festa del mare Sarà alle ore 23.30 Dal molo di Levante Quindi zona Passeggiata Dell'Isippo Lo spettacolo Pirotecnico I fuochi d'artificio Che rappresentano Insomma Il centro Dell'estate fanese Che saranno visibili Ovviamente Da tutta la spiaggia Di Sassogno Ma per chi volesse Anche da quella Dell'Ido Per la rassegna Comizi d'amore La rocca Malatessiana Di Fanno Lunedì 31 luglio Ospiterà Uno spettacolo musicale Dedicato a Pino Daniele E Massimo Troisi Sentiamo Brami di Pino Daniele Per raccontare La figura di Troisi Diego Quando si svolgerà Questa iniziativa E chi staranno I protagonisti Si svolgerà Il 31 di luglio Alla rocca Malatessiana Di Fanno All'interno Di Comizi d'amore Con il supporto Di Cinefortune Saremo in scena Quel giorno Io Che sono l'autore Dello spettacolo E mi occupo Della parte narrativa In realtà È un vero e proprio Concerto di canzoni Di Pino Daniele Durante il quale Racconteremo La figura E soprattutto La collaborazione Tra questi due Grandi artisti italiani Che sono partiti Da Napoli Per poi arrivare Uno a suonare Con Eric Clapton Con Ciccorea L'altro agli Oscar In scena con me Ci saranno Antonio Carluccio Voce e chitarra Marco Vidino Chitarra Mandolino e mandolino elettrico Dario Spinelli Al contrabbasso Abbiamo anche Il nostro fonico Di fiducia Marco D'Ambrosio E avremo Un ospite d'eccezione Un artista Di respiro internazionale Ma fanese Che è Elisa Ridolfi Come è nata L'iniziativa L'iniziativa è nata Dal fatto che io Da sempre seguo Massimo E quindi Sono sempre stato Un suo fan Appassionato Oltre che studioso Quindi è nata L'esigenza Dentro di me Da circa un anno Lavoro a questo spettacolo Di più che rendere Un omaggio Perché ci tengo a precisare Non è una cover band Non è un omaggio È un racconto Di questi due artisti Mi sembrava originale Raccontarlo Attraverso la collaborazione Che ha avuto Con un altro Grande artista Che tra l'altro Gli ha scritto Tutte le colonne sonore Di tutti i suoi film E i biglietti Possono essere acquistati Anche la sera stessa? Anche la sera stessa Alla Rocca Altrimenti tutti i giorni Al Botteghino Del Teatro della Fortuna O su Viva Ticket Ci sarà anche Un altro ospite D'eccezione Ma in platea Sì abbiamo la fortuna E l'onore di avere in platea Ospite Anna Pavignano Scrittrice di successo Compagna storica di Massimo Nonché con lei Che ha scritto Tutti i film di Massimo Fino a guadagnarsi Addirittura La candidatura Agli Oscar Con il film Il postino Anna sarà in platea Ci siamo sentiti Diverse volte Sa di questa iniziativa Abbiamo cercato Poi di legare A lei Tutto questo Omaggio Questo contributo Nei confronti Di Massimo Troisi Perché poi Il 2 agosto Io la incontrerò Al Bastione Sangallo Sempre qui a Fano Per presentare Un suo libro Su Massimo E poi ci sposteremo In serata In piazza 20 Settembre Incontreremo di nuovo Il pubblico A precedere La proiezione Del film Il postino Quindi vi aspettiamo Tutti Il 31 luglio Alla Rocca Malatestiana Per lo spettacolo Quando Invece sabato 29 luglio Alle ore 18 Nel castello Branca Leoni Di Piobbico È in programma La cerimonia Della provincia Di Pesero Urbino Dedicata agli studenti Alle studentesse Delle scuole superiori Usciti Con la votazione Di 100 elode All'esame di Stato L'iniziativa Si aprirà Con i saluti Del presidente Della provincia Giuseppe Paolini Del sindaco Alessandro Urbini Della dirigente Dell'ufficio scolastico Provinciale Alessandra Belloni E degli altri Rappresentanti istituzionali A seguire L'analista Di geopolitica Reporter di guerra E scrittrice Greta Cristini Dialogherà Con i presenti Sul tema Ritorno al futuro Prima della cerimonia Sono previste Due visite guidate Al castello E agli Annessi musei civici A cura del comune E della Proloco L'ingresso però In questo caso È su invito Un viaggio Che vedrà Ben 20 concerti In 19 comuni Della provincia Di Pesero Urbino È tutto pronto Per l'edizione 2023 del festival Il festival itinerante Terre Sonore Marco Lonigro Al via la terza edizione Di Terre Sonore Il festival itinerante Ideato da Fano Jazz Network Con la direzione artistica Di Adriano Pedini In programma Dal 30 luglio Al 27 agosto Ben 20 concerti Distribuiti In 19 comuni Della provincia Di Pesero Urbino Ci aspettiamo Che Terre Sonore Possa rappresentare Veramente Un passo In avanti Rispetto a quella Che è la promozione Del nostro territorio Noi vogliamo fare La nostra parte Daremo il nostro contributo Portando nel territorio Musica di qualità Insieme Anche Ad altri Eventi Che sono significativi Che fanno parte Del nostro modo Di pensare Faccio una citazione Su quello che sarà I tre appuntamenti Del giornalismo D'inchiesta Di questo festival Di macchie e inchiostri Quindi cercheremo Di arricchire Tutti gli appuntamenti Del territorio Con altrettanti Appuntamenti Significativi Che daranno un segno Di come Di com'è la nostra Partecipazione Come intendiamo Noi vivere Questo territorio Magnifico Che a volte Molto nascosto A volte poco conosciuto E quindi Crediamo Di poter contribuire Dopo la felice esperienza Delle due passate edizioni Confortate Da una presenza Considerevole di pubblico E dalle adesioni Crescenti Dei comuni Terre Sonore 2023 Si presenta come un progetto Di rigenerazione Un processo olistico Che riguarda le persone L'ambiente E la storia L'appuntamento È la prima serata Del festival In programma Domenica 30 luglio Alle ore 21.30 Presso la riserva naturale Statale Gola del Fuglo Domenica 30 Il Fano Gez Che ormai È da 11 anni Un punto Fisso Della rassegna Dove appunto Termina Fano Gez Nel splendido scenario Della Golena E da lì Esplode Per le terre sonore Quindi Anche perché ormai La riserva È diventato Il cuore pulsante Del territorio Della natura Provinciale Cioè veramente Un punto Di riferimento Per tutta la provincia E quindi Non poteva Non terminare Una rassegna E iniziare Quella che Poi in un'esplosione In tutto il territorio Provinciale Fra le peculiarità Che caratterizzano Terre sonore Rientra la condivisione Di ogni appuntamento Con le comunità locali Prevedendo L'abbinamento Dei concerti A momenti conviviali Con l'obiettivo Di valorizzare Prodotti Enogastronomici Tipici Iniziative Espositive Visite Alla scoperta Di borghi antichi E momenti Di approfondimento Su alcune tematiche Del nostro tempo Ora andiamo All'arena BCC A Tre Ponti Di Fano Dove prosegue La rassegna dialettale Domani sera Sarà la volta Del guitto Maria Elena Delbianco Andiamo a presentare Anche lo spettacolo Del guitto Che va in scena Con È il Palazzo Le Baruffe 8 luglio Qui a Tre Ponti Di che cosa parla? È una storia Ambientata in un condominio Sono quattro storie In quattro appartamenti diversi Però a un certo punto Tutti saranno coinvolti Perché succede qualcosa Che coinvolge un po' tutti Quanto vi siete divertiti A realizzare questa commedia? Beh abbastanza Insomma È uno spettacolo divertente Che ci ha appassionato E ci ha coinvolto Un po' tutti E allora Lascio la parola Per invitare Gli amici a casa Ecco Io spero che vengano Molti a vederci Quest'anno Quest'inverno Non siamo andati in scena Rispetto ad altre volte Debutiamo In estate Quindi spero che ci sia Molta partecipazione Di pubblico Quando? Il 28 luglio A Tre Ponti Sempre Il nuovo Teatro Verdi Fa sapere che Lo spettacolo Intitolato Mortina Un musical Che ti farà morire Da ridere In programma All'Arena BCC Il prossimo 6 agosto È stato annullato Per motivi Tecnico-organizzativi I rimborsi Avranno entro Non oltre Il 31 agosto Attraverso Lo stesso canale Di acquisto Ma i clienti Che hanno acquistato Il biglietto Nei punti vendita Ticket One Dovranno chiedere Rimborso Nel link Che vedete In sovraimpressione La poesia di Franca Mercantini Diventa un'opera Multisensoriale Al Parco Miralfiore Le sue strofe Da ieri Sono fruibili E accessibili a tutti Grazie all'installazione Multisensoriale Pensata dal Comune di Pesaro In sinergia Con la scuola Mengaroni E la famiglia Mercantini Si tratta di un pannello Accessibile Perché Ha spiegato il presidente Del Consiglio Marco Pierugini È pensato anche Per non vedenti E non udenti Inquadrando il QR code Che si trova nella bacheca Si aprirà Un link YouTube E un video Narrato e sottotitolato Ho il cuore pieno di gioia Ha commentato Franca Grazie a tutti coloro Che si sono adoperati Per realizzare questo progetto Ed è un sogno Che si avvera Tra poco Trasmetteremo le previsioni Del tempo E a seguire uno speciale Dedicato alla terza serata Della festa Della Cresciamatta Eocca in porchetta Vedete qua Anche tutti gli orari Di replica Di questo speciale Io vi ringrazio Per aver seguito Occhio alla notizia E vi ricordo anche Il numero di telefono Dedicato alle vostre segnalazioni 338 49 68 250 Buona serata a tutti Grazie a tutti